L'allarme per la guerra in Ucraina è finalmente scattato, tardi ma è scattato. Ci è voluta la visita lampo della Merkel e di Hollande, prima a Kiev e poi a Mosca, visita molto importante sotto ogni aspetti, una novità. Nessuno sa nulla nel merito, tutti se ne stanno molto abbottonati e un documento finale ancora non c'è, c'è una prosecuzione della trattativa. Conclusioni quindi per il momento sono impossibili, ma gli avvenimenti, per quello che se ne può sapere, parlano da sé. Quindi cercherò di fare una breve riflessione con voi, di fare il punto, mettendo insieme tutto quello che c'è a disposizione, distinguendo naturalmente quello che si sa, perché si è visto ed è poco, da quello che si può dedurre, che invece è molto di più. Innanzitutto il viaggio, improvviso e riservatissimo, dei due dirigenti dei più importanti due paesi europei. Cinque ore con il presidente Poroshenko e poi almeno quattro, se non cinque, a Mosca con Putin. Non ci si parla, chiunque lo capisce, non ci si parla così a lungo se non ci sono cose da dire. Ma la questione è, perché ora e come? L'Europa della Francia e della Germania sembra essersi svegliata adesso, dopo aver condiviso nel corso del 2014 praticamente tutte le mosse fatte dagli Stati Uniti, sempre sotto pressione, sì, ma averle condivise. Perché ora io credo che la mossa sia dovuta alla decisione americana di erogare subito un miliardo di dollari per riarmare l'Ucraina e aggiungendone due subito dopo, nel 2016 e nel 2017. Mossa che deve avere preoccupato molto, non poco, l'Europa. E quindi Merkel e Hollande hanno fatto il viaggio per far capire agli Stati Uniti che non sono d'accordo. entrambi in varia forma, a mezza bocca, hanno detto che sarebbe un passo verso la guerra vera e propria contro la Russia e dire questa frase significa implicitamente condannare l'idea di un armamento dell'Ucraina in questo momento. Tra l'altro la Mogherini ha lasciato un'intervista alla Repubblica dove ha detto proprio esattamente questa cosa. dare le armi all'Ucraina adesso equivalrebbe a una mossa verso la guerra. Anche questa è una frase molto chiara. Non attribuisco molta importanza a quello che dice Federica Mogherini, ma se l'ha detto vuol dire che lo poteva dire, cioè che è stata autorizzata a dirlo. Sappiamo che la Mogherini non era né a Mosca, né a Monaco, né a Kiev. E questo dice molto della sua importanza e del suo peso in questa vicenda, ma il fatto è che l'ha detto e soprattutto se c'è una conferma che qualche cosa di serio è avvenuto è il fatto che la Societe Press e altre fonti americane hanno fatto filtrare, e queste cose hanno sempre un significato, hanno fatto filtrare che la Merkel e Hollande si sono mossi senza avvertire Washington. Anche questo è un segnale, credo che se viene da fonti americane bisogna credergli. Dunque si è aperta una crepa e Merkel e Hollande hanno segnalato a Obama che non vogliono un'escalation militare. Conferma anche la data Kerry, il quale a Monaco ha detto che gli Stati Uniti e Europa sono d'accordo su tutto. E quando si dicono queste cose di solito è perché è esattamente il contrario. Quando si sottolineano unità così fortemente vuol dire che l'unità non è poi così forte. Potete notare che sono state messe fuori gioco in questa operazione non solo l'Italia, che non conta niente, ma l'Inghilterra, la Polonia e le tre Repubbliche Baltiche che invece in tutta questa vicenda hanno contato moltissimo. Cioè l'Europa è spaccata. Dall'altra parte c'è Poroshenko che ha parlato naturalmente, ma ha parlato con la voce del ventriloco di Washington e ha chiesto armi. Il fatto è, e questa è l'altra questione, che la sappiamo non dai colloqui, ma la sappiamo sul campo, dalle notizie che vengono dal campo, il fatto è che l'Ucraina è militarmente in cinocchio. Un miliardo di dollari americani sta arrivando in materiali militari di vario genere. Si dice, non si fa una distinzione tra letali o non letali, ma di fatto dopo il documento della Brookings Institution che ha detto, diamogli anche le armi letali, e sapendo qual è la posizione del Partito Repubblicano e la non posizione di Obama, è chiaro che gliele daranno. La questione non è le armi che arrivano soltanto, ma chi combatterà. Da notizie prudenti che vengono dal Donbass, è chiaro che gli insorti indipendentisti sono in condizioni di avanzare. E Merkel e Hollande sarebbero andati a Mosca, forse per chiedere a Putin, di svolgere un'azione di convinzione perché non stravincano. Forse, non lo sappiamo con precisione, ma circola voce, è emersa addirittura sulle agenzie, che uno dei punti segreti della trattativa che ha così velocemente fatto affrettare Parigi e Berlino è che Mosca sia stato il luogo dove è stato chiesto a Putin di intercedere presso i ribelli perché allentino l'accerchiamento della sacca di Debalsevo, perché là dentro sarebbero rimasti oltre 2000 uomini che non sarebbero solo dell'esercito ucraino, ci sarebbero moltissimi militari di un contingente nato sotto falsa bandiera, cioè circa 700 uomini addirittura, ci sarebbero americani, ci sarebbero francesi della legione straniera, ci sarebbero i servizi segreti tedeschi, le forze speciali polacche e un discreto numero di soldati, chiamiamoli volontari, ma diciamo meglio mercenari, delle tre repubbliche baltiche. Quindi la situazione potrebbe essere addirittura che si è corsi a Mosca per chiedere un favore a Putin affinché dia garanzia di non fare un massacro di questi militari, in cambio promettendo che l'Europa si opporrà all'avvio di altre armi e di altri mercenari della Nato sul territorio dell'Ucraina. Hollande subito dopo ha parlato di una tregua con il ritiro addirittura di 50-70 km delle truppe ucraine e con una forza a forze di interposizione controllata anche dalla Russia e poi ha parlato in una dichiarazione di una concessione di sostanziale autonomia a Donbass insieme a un cessato il fuoco. Tutte cose da verificare, cose che in Ucraina non piacciono e non sono piaciute e non piaceranno, ma il problema fondamentale è che in questa partita segreta ci sono molti giocatori che giocano la loro partita diversa da quella che piacerebbe agli altri. Ecco, ci giocano diverse partite, alcune delle quali sono mortali. Se qualcuno sbaglia la mossa, all'improvviso l'Europa si potrebbe trovare in guerra. Chi ha seguito i miei commenti in questi mesi sa che io da tempo pavento questa situazione. Ci siamo arrivati, quindi non è improbabile che questo giro attorno al sole continuerà in mezzo agli incendi e alle bombe e a un sacco di altri morti dei civili e dei militari dell'una e dell'altra parte. Potrei dire che Dio ce la mandi buona, ma insomma cerchiamo di essere ottimisti purché si sappia che siamo sul filo del rasoio. E buona fortuna a tutti! Grazie a tutti!